Per questo segno di speranza, la Fondazione di Università Cattolica in Croazia. La decisione di Cardinal Josi Bosanić, Adjbisopo Zagreb, di creare la Università Cattolica è una decisione significativa e importante, non solo per la Cattolica in Croazia, ma anche per la società di Croazia. Credo che la Università Cattolica è un signo di speranza, di diversità e di contribuire per la Cattolica Cattolica in Croazia. E questo è il motivo per cui il Presidente Zagreb, Cardinal Bosanić, ha deciso di creare questa nuova università. Cattolica 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 And I certainly think that one of the ways to improve matters, would be have a well-functioning university. A low percentage of high educated people are one of the biggest problems for development of the economy. And the whole society and we will produce high educated people, so we need the university. Normalmente la gente ha questo stereotipo che la Università católica non può davvero rilassare con la scienza. Il fatto è che la scienza può essere, al stesso tempo, persone di fede. Mi devo adottare che quello che mi ha sempre detto in Roma, in Vaticano, che la Università católica deve existire solo se fosse eccellente, se non è eccellente, è meglio non existire. La Università católica ha un approccio diverso, e questo approccio include non solo l'educazione come le informazioni, ma che significa il sviluppo di tutta persona in searcha della verità. Prima di tutto è l'educazione di tutta persona, e l'integrazione di tutta persona, e l'integrazione di tutta persona. Secondo è fare una buona scienza, credo che queste due cose non sono separati, possono andare molto bene. E questo è qualcosa che vogliamo offrire in Croazionale, della società, una università basata sui valori cattolici, dedicata a l'educazione, e la crescita della personalità, basata sulla cattolica fede e tradizione cattolica, e, allo stesso tempo, offrire, in nostro studi, buone scienze. Sopri spesso, ero un'applicazione per la università, poi, ovviamente, ho visto un piccolo brochure sui Croazionale cattolica università su internet, ho leggere, e il programma era molto interessante, e, credo che questo era per me. Cattolica, un'implice, 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 e, tu sei qualcuno qui. Tu sei solo un student. Professori, che conoscono i nostri nomi da l'inizio, e, davvero, si cercano di conoscire e comunicare con noi. Cattolica, credo che questa università può avere, e dovrebbe avere, ma, non credo che questa università può solo essere supportata da persone in un piccolo paese di Croazia. Cattolica, cattolica, che sono influenzate, ma anche non sono Croazani, che anche, come me, hanno un grande interesse per altre ragazze, in vedere qualcosa come questa università cattolica, che succedono. che ci sono che 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 ci sono un'instituzione di eccellenza, non ci sono una università molto ambito e questo è che bisogna molto educati di professori, persone con credenziali, ma anche, in order per attraverare i migliori studenti, ci sono fondamentali in fondamentali in le bambini che ci sono in ora, ma città e un nuovo chapel che possiamo condividere di mass per studenti e questo costa money. La Christiane Catholic Università ha molto potenzial e spero crescere in futuro, spero che venivano qui. come here. We have only small part of our campus renovated and we are looking forward to make our campus also alive with library with students' homes with laboratories with everything. In this part of Zagreb and Croatia and in this region this university could really bring some changes in our society and also some sign of life in our church situation.